I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata in provincia di Napoli hanno arrestato per spaccio di stupefacenti e detenzioni di armi clandestine da guerra Marco Guarino, 18 anni, già noto alle forze dell'ordine. In seguito a un servizio di osservazione, i militari dell'arma hanno notato il giovane prelevare stupefacenti nascosti in un edificio parzialmente ristrutturato e spacciarli poi a tre persone. Bloccati e perquisiti, gli acquirenti sono stati trovati in possesso di due dosi di cocaina appena acquistate per uso personale, mentre il diciottenne di 40 euro in denaro contante, ritenuti il provento dell'illecita attività. In seguito a una successiva perquisizione dell'edificio, dove il diciottenne aveva prelevato lo stupefacente, i militari hanno trovato ulteriori 617 grammi di cocaina, di cui una parte divisa in 70 dosi e varie armi e munizioni. Tra esse una bomba a mano, modello M75 di costruzione ex Jugoslava, due pistole calibro 9x21 con matricola a brasa, una pistola calibro 38 special, tre serbatoi per pistola, 77 cartucce calibro 9x21 e 38 special. Le armi, le munizioni e la droga sono state sequestrate. La bomba a mano, perfettamente funzionante, è stata disattivata dal personale specializzato degli carabinieri artificieri. Gli acquirenti sono stati segnalati alla prefettura come consumatori di stupefacenti. L'arrestato è stato condotto a poggio reale.